Cosa c'è di più bello che svegliarsi? Fare 10 minuti di bicicletta e arrivare in questo paradiso. Sono le 9 di mattina, ancora la spiaggia è mezza vuota, ci sono tutte le canoe a disposizione e poi allora volessi noleggiarle per raggiungere gli isolotti qui di fronte. Ci sono una ventina di persone che fanno il bagno, dietro queste mangrovie ci sono degli ottimi ristoranti e nulla quindi è una di quelle rare sensazioni di completezza. Ah ragazzi, ho lasciato un'ora sia le giabatte che la bicicletta, no, legata. E proprio questo è uno dei motivi per cui ho deciso di venire qui a Roma, non avrei mai potuto farlo. S 같아요. It would be easy to just walk away from the things we do, try to forget about me and you, it would make sense if we just let go, so hold on, this is worth fighting for, hold on. So let go, so let go.